ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul scusate ma abbasso un po' tore perché sennò svolazzo come una chiuma vi faccio un video acquisti perché ho acquistato un bel po' di cosucce e ve li volevo far vedere ma la chicca ve la lascerò per ultima perché sono cattiva sono cattiva dentro allora ho acquistato alcuni prodotti e alcuni accessori li prendo e li metto tutti qua aspettate allora vi faccio vedere cosa ho acquistato sono stata dai cinesi e ho preso svariate cose e ve li volevo far vedere perché nel frattempo avevo preso due magliette ve li faccio vedere e basta allora le prime cose che vi faccio vedere per quanto riguarda i detersivi ho preso questa linea qui del delfino lavatrice e devo dire che mi piace tantissimo la profumazione è pazzesca perché è veramente ottima questa è i fiori di loto con additivo ha un profumo veramente inebriante io lo adoro una cosa esagerata proprio il profumo che ha una cosa esagerata mi piace tantissimo sia per quanto riguarda il prezzo sia per quanto riguarda i vestiti che li tolgo dalla lavatrice e fanno un profumo anche se non mettete l'ammorbidente perché spesso mi capita di dimenticarlo di mettere l'ammorbidente e tutto ottimo ma veramente ottimo cioè non vi sto scherzando un ottimo prodotto profumazione pazzesca come il suo fratellino alla lavanda mi piace tantissimo a 1750 ml comunque ottimo veramente ottimo questo poi la lavanda che ve lo dico a fare quello è molto più forte come odore questo è un pochettino più leggero alla lavanda tra tutte e due non ho preferenze mi piacciono tutte e due allo stesso modo perché la profumazione vi ripeto quando io apro il cestello della lavatrice la profumazione è inebriante proprio ti prende e ti porta via ottimo ottimo veramente mi è piaciuto tantissimo per quanto riguarda sempre la lavatrice e tutto vi faccio vedere questi che sono di spuma di champagne questo è al profumo di essenziale prezioso aspetta dove c'è scritto il profumo ah qua sopra scusate cieca io allora questo questi ammorbidenti sono della spuma di champagne la marca spuma di champagne morbidente concentrato questo è nella passione elisir e poi ho preso questo che è sensual argan allora sono una bomba una bomba vi ripeto io adoro anche non utilizzarli perché questi qui della delfino sono ottimi anche come profumazione e tutto questi io li utilizzo quando devo lavare le magliette dei ragazzi che certe volte li lavo a mano perché ovviamente sono soltanto sudato non è che sono dei bambini piccoli che si sporcano facilmente io li lavo le cose ovviamente perché sono sudate che poi si cambiano sempre quindi sono ottimi cioè veramente sono ottimi infatti voi ne vedete uno e uno invece quando noi andiamo dai cinesi a prendere questi prodotti ne prendiamo tipo tre io e tre la mia migliore amica perché veramente sono delle profumazioni pazzesche e ti durano tantissimo quindi per me sono ottime e promosse come ammorbidenti infatti sto comprando proprio a un periodo che sto comprando solo questi qua come ammorbidenti accoppiati al detersivo del delfino poi un'altra cosa per quanto riguarda sempre le pulizie vi faccio vedere questo che è un acido muriatico ve l'ho fatto vedere anche non mi ricordo se era questo che vi ho fatto vedere però un altro per quanto riguarda acqua e sapone io li compro spessi specialmente perché il prezzo è bassissimo me li tengo a casa perché avendo due bagni in più c'era un terzo nel garage quindi capite bene che mi serve tantissimo l'acido muriatico per quanto riguarda i bagni poi io non posso farne a meno io quando bevo il latte o bevo delle tisane tutto utilizzo le cannucce spesso utilizzo le cannucce date in dotazione con i bicchieri in vetro ma se non uso i bicchieri in vetro utilizzo questi qui di plastica perché avendo il rossetto utilizzando dei rossetti facendo swatch eccetera eccetera perché spesso mi capita di tenere un rossetto per dare una valutazione e tutto quindi utilizzo le cannucce così le butto direttamente mi dispiace se qualcuno pensa il fatto della plastica insomma mi capita anche di comprare le cannucce poi un'altra cosa per quanto riguarda il beveraggio ho preso queste due uno è per me uno è per mio figlio Andrea perché Carmelo l'ha comprata da dove lavora lui e se l'è presa nera invece noi l'abbiamo presa così allora vi faccio vedere la mia che è dove mettere l'acqua quando si va in giro e devo dire che mio figlio Carmelo che ce l'ha nera la porta in giro e l'acqua gli rimane bella fresca io l'ho presa così con un degradé dal fucsia al blu che sono i miei colori preferiti viola, fucsia e blu e all'interno hanno questa cosa così sono ti mantengono fresca la bevanda e calda se la metti calda io per adesso sto bevendo poco infatti ho comprato delle tisane delle tisane delle bevande che devo bere le ho messe anche qui nella postazione proprio per dare la possibilità di bere di più ma poco mi capita purtroppo quindi questo è per quanto riguarda me e questo invece per quanto riguarda Andrea che lui va in palestra e quindi ha bisogno anche lui della bottiglia e gliel'ho presa così che è sul verde che va sul dorato e lui è piaciuta tantissimo è la stessa identica a quella mia e devo dire che gli piace gli piace tantissimo quindi sono molto contenta di averli alla presa anche a lui poi sempre dai cinesi ho preso due cose in croce allora la prima cosa che ho preso è questa blusa che sembra una tovaglia da tavolo sì potrebbe anche sembrare una tovaglia da tavolo ma mi piace mi piace tantissimo il fatto del tessuto che è abbastanza leggero non è quel materiale che ti si attacca addosso e mi piace tantissimo il fatto di avere le maniche con le rouge ed è una cosa che io adoro comunque la maglietta la blusa è così semplicissima proprio semplice 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 da tovaglia da tavolo con il bottoncino nella parte di dietro qui ha un bottoncino e lo scollo a goccia e devo dire che mi piace tanto l'ho tenuta nel sacchetto un paio di giorni e ancora non si è stropicciata quindi il tessuto è ottimo che non si deve stirare poi ho preso dei pantaloncini per quanto riguarda il fatto che sto a casa perché mi capita spesso ovviamente di stendere i panni e se ho i pantaloncini leggermente più corti mi dà fastidio perché passano le persone di sotto non vorrei che si vedesse qualcosa e quindi ho preso i pantaloncini abbastanza grandi da natarci dentro da da essere diciamo coccolata dal pantaloncino perché non mi piacciono le cose troppo aderenti specialmente per stare a casa magari per uscire sì ma per stare a casa voglio delle cose molto scialle molte frufru perché così ho diciamo la possibilità di muovermi con tranquillità posso scendere e salire le scale tranquillamente mi posso abbassare e tutto ho preso questa tipologia di pantaloncino ho preso la misura abbastanza grande vi ho detto cinato nel senso che è molto grande ma proprio io l'ho presa apposta alla misura più grande perché mi piace proprio stare comoda ed è questo tipo di pantaloncino vedete è abbastanza grande vi metto più indietro per farvi vedere la grandezza del pantaloncino e la cosa che mi piace tantissimo è il fatto che ha anche le tasche è trasparente se lo vedete così è trasparente cioè io vi vedo ma mi piace il fatto che è bello leggero 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 è bello largo ho preso questa fantasia poi ho preso questa fantasia con il blu non c'era una unica tinta perché se no l'avrei presa però non c'erano quindi ho preso questa con il blu tanto mi servono per stare a casa e infine ho preso anche questa che è sempre con il blu e il giallo sono molto carine solo per stare a casa quindi amen l'ultima cosa che vi faccio vedere è questa allora l'ho presa perché guardo spesso le cose su instagram e la vedevo spesso pensavo la prendo non la prendo la prendo non la prendo l'ho presa l'ho presa direttamente ho cliccato sul tastino dove c'è la cosa di instagram e l'ho presa ve la faccio vedere non vi dico niente esce in questa maniera con il suo sacchettino qua dentro abbiamo il caricatore e questo è il prodotto già ve l'ho fatto vedere su instagram lo accendiamo ha la bocchetta usb al di sotto quindi lo potete accendere benissimo e adesso accendiamo il questo aggeggino adesso vediamo qui non so se si vede ci sono le temperature vedete 150 e ovviamente dobbiamo alzare la temperatura e io la metto a 200 non so se si vede vediamo se riesco a farvelo vedere l'ho messa a 200 vedete poi qua sotto c'è scritto 12 questo significa quando dovete inserire il capello adesso vi faccio vedere come si usa si inserisce il capello già si sente io lo sento anche così lo puoi sentire sì il calore sapete quando accendete le piastre quando accendete le piastre allora inserite il capello cliccate qui girate il capello significa che il capello è fatto adesso ve lo faccio vedere spero di riuscirci perché ho i capelli bagnati questi sono i miei capelli al naturale ho i capelli leggermente bagnati non so se riesce bene a farvelo vedere allora prendo una ciocca così metto il capello dentro giro ha preso il capello e questo è il boccolo ovviamente considerate che i miei capelli sono ancora un po' bagnati comunque questo è il boccolo che ha fatto devo dire che è molto molto bello ad esempio io lo tengo ad esempio io lo tengo l'ho fatto solo nella punta ma lo potete fare anche fino alla radice l'abbiamo provato su mia nipote l'abbiamo provato sulla bambina piccola è una meraviglia perché li fa benissimo l'unica cosa che mi ha detto mia sorella è di spruzzare la lacca prima di inserirlo qua dentro così da mantenere diciamo il riccio più evidente ovviamente da me non lo vedete perché adesso ho i capelli un po' più scuri del solito comunque questo è il boccolo che è venuto cioè devo dire che è molto molto bello vi faccio vedere è che ho i capelli bagnati ho paura che si rovinano perché ho i capelli bagnati comunque potete prendere le ciocche più piccole più grandi indifferente lo dovete inserire proprio dove c'è la bocchetta io gli metto le dita per capire se prende il capello e l'ha preso dovete sentire il suono che fa per diciamo togliere il dito dal pulsante e significa che il capello è fatto e questo è il boccolo che ha fatto perché io cosa faccio inserisco i capelli premo questo pulsante guardate il boccolo bellissimo allora inserisco i capelli premo il pulsante lo rilascio e aspetto i 12 secondi vedete e poi esco il capello e questo è il boccolo che ha fatto poi in caso ve lo farò vedere direttamente si sente che è leggermente caldo leggermente poi vi faccio vedere direttamente per spegnerlo ovviamente sia per spegnerlo che per accenderlo c'è il pulsantino è un ottimo ottimo prodotto veramente cioè mi piace tantissimo il fatto vabbè già sento caldo il fatto di fare i boccoli dice ma io non ci riesco è tutto se dovete fare i boccoli leggero tipo soltanto la punta o se dovete fare tutti i capelli ve li fa tranquillamente devo dire che è un ottimo ottimo prodotto io mi sono trovata benissimo infatti già mia nipote ah zia io lo voglio pure mia sorella io adesso me lo compro pure veramente ottimo ha il suo cavetto voi lo attaccate perché per fare tutti i capelli dovete avere una carica abbastanza alta quindi l'ho caricato io ad esempio oggi non faccio i capelli li lascio così domani faccio i capelli con questa piastra con questa riscia capelli e poi vi faccio vedere come vengono io di solito faccio così la sera prima mi lavo i capelli li lascio normale asciugare normalmente e tutto e l'indomani faccio le acconciature so che così i capelli mi durano molto ma molto di più quindi per quanto riguarda questo video è tutto poi su instagram vi metterò la foto del primo e del dopo dei capelli e niente che dirvi di più spero che il mio video vi sia piaciuto io vi mando un grosissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao